E non sono ancora andato a Lucca. Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Fumetti e Paroli, io sono Igor e oggi parliamo di questa bella piletta. C'è di tutto, comics, manga, italiani, roba seriale, roba... Insomma, state un attimino comodi comodi che adesso ci guardiamo tutti i volumetti insieme. Pronti? Partiamo subito con i due volumi scritti da Roberto Recchioni e disegnati da Corrado Roy. Mi riferisco a... eccola qui, questa storia in due albi, Dylan Dog 444 e 445. Tra l'altro, questa copertina fa omaggio ai 75 anni di Tex, bella iniziativa editoriale che prevede, insomma, le copertine di tutti i volumi seriali che riprendono un po' le vecchie copertine di Galep, eccetera, eccetera. Insomma, andate a spulciare un po' sul sito un po' la corrispondenza. Ma tornando a noi, questa è una doppia storia che io, tra l'altro, ho già letto, molto interessante. Vi faccio solo velocemente vedere i disegni di Corrado Roy. E ditemi voi, allora, conosco Roy da una vita, ok? Ho visto un sacco di cose di Roy, ma mai, mai, mai avevo percepito questa bravura. Guardate, qui c'è dell'erotismo, arte, sogni, incubi. Insomma, parleremo di questa storia, probabilmente farò un video dedicato. Bellissimo discorso della sceneggiatura in 16 noni. Appunto, vedete che anche nel secondo volume le vignette sono sempre, così, tre per ogni pagina, tranne forse mi pare un paio di casi quella con l'eccezione. Ma questa roba, decisa ovviamente da Ricchioni, è geniale. Quello che non mi è piaciuto? Beh, il titolo, morti in 16 noni, non c'entra una cippa di niente con la storia. C'entra con la raffigurazione. Lui ha voluto fare questo tipo di omaggio. Non sono d'accordo, ma non importa, è un cavillo, veramente. Magari molti di voi neanche ci hanno fatto caso. Comunque, sono curiosissimo di sapere che cosa ne pensate, perché secondo me molti verranno un po' presi nella valutazione di questa storia dai disegni, che sono incredibili, e anche dall'erotismo, che è abbastanza spinto in alcune scene. E quindi potreste essere annebbiati da questi due elementi. Invece, provate a pensare soltanto alla storia e, curiosità, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo nei commenti. Procediamo con un recupero. Questa volta è eBay, tra l'altro arrivato in tempo zero, zerissimo. Avevo uno sconto di 5 euro, ma manco so dirvi perché, forse perché era un po' che non facevo capolino nel sito di eBay, e quindi, non lo so, per riattirarmi mi hanno dato questo omaggio e io l'ho utilizzato immediatamente. Tra l'altro ho comprato un volume, sentitelo un po' brossurato, di un'ottima fogliazione di un attore che amo il mangaka più occidentale che c'è, e sì, sto parlando di Giro Teniguchi al tempo di papà, una storia che molti dicono essere veramente meravigliosa. Questa è l'edizione di Panini Comics Planet Manga di 22 euro. Io l'ho pagata, pensate, 12 euro, meno i 5 euro di lo sconto di cui parlavo prima, 7 euro. Ed è, insomma, una edizione, secondo me, veramente molto, molto bella. Carta super bianchissima, i disegni sono di Giro Teniguchi, ma, come sapete, insomma, la storia in questo caso è la cosa più importante. Sono molto curioso, ovviamente, di questo. Ci facciamo un bel videozzo. Procediamo con, io lo chiamo il trittico della fantasia, o meglio, il fantasy, sapete che in edicola, mensilmente, arriva almeno tre volte. La prima con il mitico, immancabile, strepitoso, Dragonero, eccolo qua. Questo è il numero 11, lo spirito errante. Diciamo che finalmente andiamo a ritrovare, e guardate che disegni incredibili. Un elemento che avevamo lasciato mesi e mesi fa, quasi un annetto fa, praticamente, questo artefatto che prende vita. Al suo interno, sapete che c'è lo spirito di Aura, e basta, non dico nient'altro. Comunque, disegni incredibili. Guardate qua che scene, che storia, guardate qua che roba, incredibile. Non mi ha fatto impazzire la storia. Cioè, questa storia è nata, secondo me, proprio per riportarci nuovamente ciò che avevamo perso nella saga dei ribelle. Va bene così, era doverosa. Ci sicuramente, anzi, non vedo la prima o poi, ci sarà un volume in cui rincontreremo nuovamente Alben. Non è il top del top. Insomma, degli 11 numeri letti, forse è quello che mi è piaciuto di meno. Vado avanti, diciamo fantasy. Quando esce Dragonero, contemporaneamente, esce Kalia. Qui siamo al numero 11, anche in questo caso. Va bene, diciamo che il titolo è La Battaglia di Obur. Qui si fanno le cose forti. Nel numero, eccolo qua. A settembre 2023 uscirà il numero 12. Malkut è il titolo, guardate qua, la copertina di Elena Casagrande. Secondo me, molto bella in questo caso. Ed è ovviamente la fine, il termine del primo ciclo. E con il primo ciclo io saluterò Kalia. Ebbene sì. Già, Kalia, già. Vado avanti. E qui parliamo sempre di Dragonero, ma a colori, ma vedete un po' la sezione Young. Qui sono un po' indietro, perché io non ho letto ancora i dieci volumi che sono già usciti, ma dovrei cominciare. Questo è il numero 11. Da questo volume in avanti abbiamo le storie inedite. Questa è una cosa che avevo già raccontato. Ad ottobre uscirà il secondo volume con il titolo Il Troll dei Ghiacci. Siamo in una storia inedite, quindi chissà per quanto durerà. Anche in questo caso ci saranno una decina di numeri. Boh, questo non l'ho capito assolutamente. Comunque, i primi dieci numeri vanno a riprendere Dragonero Adventures, che sono i dodici spillati usciti anni e anni fa. Lo prendete o non lo prendete? Vi piace o non vi piace? Lo fate solo per completismo, perché vi piace il Dragonero? O perché vi piacciono le storie? Su questo potremmo farci anche una piccola live. Ributtiamoci nuovamente nel mondo dei manga, e anche in questo caso è un recupero. E sì, perché mio figlio sta adorando la saga di Dragon Ball full color. Ma non l'ho presa in maniera completista tutta quanta insieme. Uno, perché non c'avevo voglia di spendere tutti quei soldi, ma due, perché visto che non è la mia priorità di lettura, mi sono detto, ma se poi non gli piace, che cavolo faccio? Mi tengo decine, anzi, 32 volumi di Dragon Ball in libreria. Poi sicuramente un giorno la leggerò. Ma ragazzi, la mia pila della vergogna è veramente bella alta, quindi non è, come detto, la mia priorità. Detto questo, a lui sta piacendo, e allora pian piano sto acquistando i volumi. Pensavo di acquistare uno per volta, così, per non sapere leggere e scrivere, ma in realtà ho trovato una bella offerta su Vinted. Sapete che Vinted mi fa cadere spesso nella rete. Un venditore, un ragazzo, insomma, il centro Italia, vendeva dalla prima saga fino alla terza e anche qualche volume della quarta. Tutti insieme. A me questa cosa non interessava, perché la prima mio figlio l'aveva già. e quindi io ho proceduto esattamente a fare un'offerta economica, ma a richiedere lui se poteva vedere soltanto dal numero mancante in avanti. E quindi procedo, sto già andando troppo oltre. Il numero due della seconda saga della serie, cioè la saga del Gran Demone Piccolo, ed eccolo qua, questo è il numero due. Ma poi c'era anche il numero tre. Il numero quattro. E con questo volume termina la seconda saga. La terza invece ha tre volumi e si intitola la saga dei Saiyan. Eccolo qua. Qua secondo me già le cose a lui piaceranno addirittura di più, perché i combattimenti aumentano, diventa un po' meno lollosa. E poi Goku è ben cresciuto. Eccolo qua. Questo è il volume tre invece. Poi in realtà le altre saga, che dovrebbero essere tre, il venditore non li aveva tutte quante, ma non importa, aveva due volumi. Io ho pagato il singolo volume, mi pare quasi 4 euro, una roba così. Quindi ci ho risparmiato, perché oggi vengono 6,90, 7,90 l'uno, anche perché a colori sono leggermente aumentati, in fumetteria almeno usati, più o meno costano quello. Quindi ci ho risparmiato un botto. Ho preso tutto quello che aveva. Quindi ho preso soltanto i due numeri che aveva della saga successiva. C'è la saga di Freezer, questo è il numero uno, e questo è il numero due. Quindi come vedete, un bel malloppetto. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Insomma, ne ha da leggere un bel po', ne ha da leggere un bel po'. Piccola parentesi comics, ma più che altro perché ci tengo a farvi vedere in questo filmato i due acquisti, sapendo che tra l'altro ho fatto un filmato a parte dedicato soltanto a questi due, ma perché avevo una pulce nell'orecchio, un tarlo nel cervello, e quindi in quel video vi ho fatto una domanda. Spero che voi lo abbiate recuperato, insomma, o abbiate voglia di scrivermi nei commenti ciò che pensate dell'argomento. Ma solo per parlare degli acquisti, vi faccio vedere i due cartonatini panini comics che vi ho fatto già vedere in passato, che sono, quindi, eccolo qua, il volume di Batman Day 2023, e una figata pazzesca, almeno dal punto di vista disegni, eccolo qua, Spider-Man, questo è il must have, dedicato appunto a Spiree, affari di famiglia, con i disegni di Delotto, Vertel dell'Edera, cioè, faccio soltanto vedere, così, a casaccio, due tavole, e poi, ditemi voi, cosa cavolo non ci faceva nella mia libreria questo volume. Sono convinto che i must have sia un ottimo modo per acquistare delle storie super eroistiche, sapendo che io non sono, non sono un completista, ma non sono neanche un esperto, assolutamente. Va bene, passiamo al capitolo successivo. Torniamo di nuovo in edicola, sempre bonellidi e sempre bonelli, questa volta ci sono tre chicchette, niente male, sono dei numeri anche speciali, li ho messi insieme in questa presentazione, perché appunto hanno tre specialità, tre eccezionalità differenti. La prima è Giulia che festeggia il trecentesimo numero, tutto quanto a colori, non sono colori eccezionali, ma comunque, insomma, ho già fatto un video anche su questo, andatevelo a recuperare, una storia assolutamente piacevole, abbiamo il buon Ettore in mezzo alle palle. Poi, il volume di Tex, eccolo qua, che va a festeggiare a colori, i 75 anni, qui ho fatto un video dedicato a Matteo Attani, perché i suoi colori fanno impazzire, tra l'altro, mi ha anche ringraziato su Instagram direttamente, ma sono io che ringrazio lui, perché insomma, ci tira fuori ste bombette, guardate qua che roba, questo momento della bufera è incredibile, devastante. Non togliamo meriti al mitico Villa, che ha disegnato questo volume, ma anche a Boselli, che ha scritto la storia, insomma, in questo caso, il cartonato che uscirà in bianco e nero, secondo me vale la pena. Vado avanti, un altro speciale, ma anche perché si chiama così, numero 37, qui parlo di Dylan Dog, ne hanno discusso tantissimi, non solo per i disegni fichissimi, il mitico Tremolante, che tutti quanti conoscete, che tutti quanti amate, eccolo qua, vedete il riferimento a Stano, vabbè, insomma, vado avanti, ne hanno parlato tantissimi, volevo fare anche un video, ma non avevo voglia di aggiungermi a quelli già presenti in rete, allora ne ho fatto a meno, perché in realtà, vedete che qui non c'è più riferimento al Pianeta dei Morti, alla saga di Bilotta, però sempre Bilotta, e lo sta scrivendo, in realtà, ci sono dei contatti, delle affinità con, diciamo, il mondo narrativo del Pianeta dei Morti, inequivocabili, tangibili, e quindi tutti stanno dicendo, ma io mi aggiungo al coro, questo è a tutti gli effetti il Pianeta dei Morti, quello che manca è il titolo, e va bene così, ci piace o non ci piace, è una volontà di Tiziano Sclavi di eliminare il discorso del Pianeta dei Morti, ma comunque le storie di Bilotta sono già state scritte, ci sono ancora altri, oltre a questo, se non ho capito male, altri quattro volumi, quattro storie, da proporci, chissà se l'avrà già scritto, oppure no, ai posteri, l'ardua sentenza, e ritorniamo nuovamente nel mondo dei manga, ma ho finito, vi faccio fare sui giusti, gli scendi, ma mi piace anche, perché almeno non vi annoiate, spero così, nel momento in cui uno si appassiona a Dragon Ball, che succede? Beh, ti esce, ti esce, la miniserie, dedicata a One Piece su Netflix, e quindi tutti gli amichetti di mio figlio si guardano, ovviamente, la miniserie, dicono, che figata, che figata, pazzesca, pazzeschissima, e quindi, cosa facciamo? e niente, papà, scusa, ma va bene Dragon Ball, ma io, quasi quasi, lo metterei anche da parte, ma come, mi hai appena detto che è una figata pazzesca, papà ha fatto un recupero, cioè, sono un cretino che ho comodato con i volumi, no papà, tranquillo, li leggerò, con tutta calma, ma prima, mi voglio leggere One Piece, e allora che faccio? Vabbè, andiamo a recuperare qualche volumetto di One Piece, i primi cinque, vediamo se gli piace o non gli piace, allora, il primo se l'è fumato in una giornata proprio così, velocissimo, il secondo se lo sto leggendo vedete c'è ancora il segnalibro, che facciamo? E niente, se lo sto leggendo, va bene, la fregatura, sapete che è una serie lunghissima, lungherrima, non avevo nessuna intenzione di andare a prendermela, a leggermela, porca sozza, adesso anche lui ha la sua bensola stile libreria del papà, è ovvio che questo mi fa piacere, altrimenti manco ve lo racconterei sul canale, quindi sono contentissimo di questo, però insomma bisogna andare con i piedi di piombo, adesso stop agli acquisti, lo lasciamo leggere e poi vediamo che succede. Siamo giunti quindi al termine di questo video e vi dico che questo è il volume che metterò sul comodino perché è il prossimo che andrò a leggere e così prima o poi lo vedrete anche sul canale, sono molto 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 curioso. Comunque vi ringrazio per essere arrivati, spero vivi fino a questo momento del video e quindi ci diamo appuntamento al prossimo contenuto. Ci leggiamo nei commenti, mi raccomando, date un po' di supporto al canale perché stiamo aumentando ma secondo me in maniera troppo troppo lenta. Vorrei una bella botta grazie anche a voi, anche perché tantissimi che mi seguono stanno apprezzando ciò che sto facendo, ciò che stiamo costruendo insieme e quindi spolliciate, fate un bel like, condividete, iscrivetevi, ditevi al vostro amico e la zia e soprattutto la nonna, la nonna, secondo me io alle nonne piaccio, io alle nonne piaccio. Extra! Giustamente Marco Lino mi ricorda che abbiamo fatto degli altri acquisti o meglio, o meglio, non so se conoscete questa collezione, come si chiama Marco? Collection Marvel. Marvel. Ma che bravissimo. Collezione Romano. Giustissimo, giustissimo. Allora, cosa si deve fare qui? Cosa si deve fare qui? E io prendo qui. Allora, noi andiamo a fare la spesa dove? A Tappone. Sì, e che succede? Che per un tot di soldi ci danno i bollini. Questi qua, i bollini. E per ogni bollini, e per ogni, e c'è una scheda che tu devi compilare e per un tot di numeri c'è un regalo che tu devi comprare con i bollini aggiungendo un po' di soldi. Un po' di soldi, quindi è una fregatura, sicuramente. No, non è vero. Allora, i regali sono veramente molto fighi, sono Marvel, qual è l'inghippo che ovviamente oltre ai bollini poi bisogna aggiungere dei soldini per prendere quello che ci interessa. Noi abbiamo fatto quindi gli acquisti e adesso ci riguardiamo insieme uno per volta. Scegli quello che vuoi. Questo, cos'è? Bicchiera di Spider-Man. Bicchiera di Spider-Man. Spacchiamo tutto. A parte che sono molto belle le confezioni. Mi apri troppo tu. Ha veramente spaccato tutto. Di qua, di qua. No, di qua. Sì, lo so. Wow. Fa vedere? Gira? Bello. Ma è vetro? Sì. Vetro. Pensavo fosse plastica e invece è vetro. Sì. Beh, quindi è fatto bene. Ok, e oltre a questo, oltre a questo, che cos'è questa qua? è la tazza jumbo. Tazza, tazza? Jumbo. Cosa vuol dire jumbo? Perché ne so. Ah, vuol dire che è gigante. In effetti è gigante. Plastica? No. Ceranica. Bella anche questa. Gira. Spider-Man. Quindi questa qui ce la usiamo a colazione. Ok? E basta. tazza, colazione, giungo. Sì, hai ragione. Beh, se non è una bella iniziativa, eccola qua. Qua ci sono tutti quanti i personaggi. Esatto. Facciamo un elenco di personaggi. Chi sono? Allora, dico io. Sì, dici tu. Dove vai? È lì, è lì, di là. Chi stanno? Allora, l'audio cable, non so se... Allora, i personaggi sono Spider-Man, Thor, Hulk, Iron Man, Capitano America, e questa è la sorella di... Questa è la sorella della tua sorella? No, è la sorella di... Come si chiama? Quello... Black Panther. Quindi come si chiama? Black Woman. Black Woman? No. Va bene, se qualcuno di voi sa come si chiama questo personaggio dei comics, fatecelo sapere nei comment, a meno io e Marco non lo sappiamo. Però vabbè, comunque dai, è una bella saga, una bella serie, secondo me, è una bella iniziativa per avvicinare un po' i ragazzi al mondo del fumetto, o comunque per... Io li leggo già i fumetti. Eh, lo so, troppi, ve l'ho detto prima che li legge. Qual è il tuo fumetto preferito più figo? Allora, per adesso che sto leggendo One Piece, One Piece, però perché Goku dopo un po' è noioso, perché... finché... Ma tu hai finito la prima saga e adesso hai iniziato la seconda. Vabbè, non importa, fai un po' di pausa, ti leggi One Piece e poi cominciamo a leggere... L'avevo detto se l'ho rovinato.